Benvenuti a tutti quanti da Francesco Benvin responsabile marketing di Sciuco Italia benvenuti a questo appuntamento speciale della nostra Universal Design Week 2020 oggi sono in compagnia di ospiti d'eccezione abbiamo con noi già lo vedete inquadrato Cristian Ghedina benvenuto Cristian Corrado sul Sente ciao Corrado e siamo in attesa di Andrea Stella che si sta per collegare a me è il piacere di darvi il benvenuto in questo appuntamento sapete che in questa settimana noi stiamo parlando di architettura di architettura da chi la fa l'architettura chi la vive l'architettura chi influenza il modo di vivere nelle nostre città nelle nostre montagne il rapporto tra la disabilità e il luogo i luoghi ma non c'è solo la disabilità come anche vedete alle mie spalle raffigurato qui nel logo della Universal Design Week parliamo anche di famiglie parliamo di anziani parliamo di ipovedenti parliamo di disabilità cognitive la Universal Design Week tiene in considerazione tutti coloro che potrebbero dover fruire di un servizio di un luogo e oggi la domanda che probabilmente molti si sono fatti è perché Cristian Ghedina con noi e lo scopriremo nell'arco di questi 45 minuti che vivremo insieme e io mi sono dovuto segnare il curriculum di Cristian nel frattempo diamo il benvenuto ad Andrea ciao ad Andrea ciao Andrea e allora noi per semplicità abbiamo non mi sentite no no il microfono di Andrea Andrea e io per semplicità abbiamo scritto allenatore Cristian no allenatore di atleti di sciatori no ma era veramente riduttivo allora abbiamo iniziato a dire cosa potremmo dire di Cristian allora sicuramente conosciuto come sciatore e poco conosciuto come pilota in realtà anche pilota automobilistico nato cresciuto a cortina ovviamente discesista nella storia della coppa del mondo di sci insomma è stato ci ha tenuto attaccato al televisore per per tante domeniche in attesa del turno del suo turno è stato uno dei migliori specialisti degli anni 90 credo proprio il 1990 fosse l'anno l'anno di Cristian medaglie abbiamo in due argenti di combinata e discesa libera un bronzo in coppa del mondo abbiamo Cristian è stato il miglior piazzamento in classifica generale è stato quarto nel 97 nel 2000 e 33 podi leggo in coppa del mondo addirittura 33 podi di cui 13 vittorie quindi 13 medaglie d'oro insomma Cristian il tuo percorso è caratterizzato da grandi successi oggi sei allenatore hai creato una scuola sci insieme all'amica debora compagnoni era la scuola sci mover a cortina e sei sempre impegnato ti vediamo sempre sul fronte per per innovare per portare novità per portare anche un po di scompiglio ricordiamo la famosa spaccata no parlandone insieme io ho fatto tante di quelle cose nella mia vita poi mi ricordano per quella spaccata sci aperti no nel salto finale però anche quello è stato quel pizzico di genio probabilmente che ti contraddistingue e tuttora guida la tua quotidianità infatti nella nel tuo andare per le piste un giorno hai incontrato Corrado sul sente ed andrea stella introduco anche velocemente corrado sul sente corrado è un un imprenditore è un formatore ma anche maestro di sci e anche fondatore di una scuola sci e corrado ha creato oltre alla scuola sci anche un progetto che si chiama scie di passione e in questo scie di passione probabilmente il marchio più noto è il progetto snow for all cioè il poter dare l'opportunità a tutti di di poter sciare di poter o tornare a sciare o di entrare in contatto con questa bellissima realtà e per la prima volta ma persone che non avrebbero mai pensato quindi persone con delle disabilità motorie o cognitive poi corrado magari ci racconti qualcosa in più e andrea stella che salutiamo di nuovo andrea per chi non lo conoscesse è un imprenditore anche lui è un velista è famoso per il suo catamarano un catamarano che ha creato insieme a suo padre ed è un catamarano che oltre ad aver vinto un premio per essere un catamarano più bello il catamarano più bello del 2003 in realtà è un catamarano speciale perché è un catamarano accessibile pensato e costruito universal design e allora queste tre tre persone insieme come come si sono trovate e che cosa combineranno nei prossimi nei prossimi giorni e nei prossimi mesi allora io partirei con un video cioè adesso tutti si aspetterebbero la parola a christian ghedina o ad andrea stella in realtà la parola parte con con un video un video di un'intervista fatta ad andrea stella corrado sul sente un'intervista rai e il il mi sentite ancora spero di sì sì e questa intervista potete vedere cosa andrea e corrado hanno realizzato in una località civistica e da lì poi partiamo andrea stella 38 anni veneto nel 2000 in gita di laurea in america subisce una rapina e per rubargli la macchina gli sparano andrea rimane paralizzato e da lì da lì costruisco un catamarano decido di tornare in america con questo catamarano accessibile dunque catamarano per tutti come sci per tutti altra sua grande passione come folgaria per tutti perché qui a passo coe si può intanto arrivare con l'automobile ci sono nove parcheggi per disabili che sono tenuti puliti sempre e questo non è banale e non è poco perché c'è una scuola di maestri che è specializzata per cui qualsiasi persona ha delle esigenze e loro sono in grado di accompagnare queste esigenze hanno dieci sedute dieci monosci e questo è anche stato un grosso sforzo economico che loro hanno fatto perché qui a folgaria possiamo muoverci in tutto il comprensorio e ci sono dieci baiti accessibili significa una baita in cui io entro mi viene data una carrozzina io scendo dal mio monosci salgo su questa carrozzina vado a mangiare vado in bagno perché la baita è senza barriere architettoniche i familiari portino i propri figli i propri cari il disabile che autonomo può già venire e può trovare tutto quello che gli serve per fare una fantastica giornata o una settimana sulla neve vi aspettiamo tutti a folgaria con sci di passione lo spirito di stella il comprensorio è super accessibile quindi basta prendere la macchina e venire qui e trovate tutte le risposte che volete bene allora poi la domanda che a questo punto sorge spontanea cosa c'entra cristian ghedina in tutto questo allora io volevo mostrarvi spero che si veda una foto che abbiamo abbiamo visto recentemente che ci ha fornito cristian e qui potete vedere sulla destra cristian e sulla sinistra debora compagnoni e su monosci dove eravate qui cristian ci vuoi raccontare qui eravamo a cortina e in questa giornata che abbiamo abbiamo fatto proprio per tutto quello che è adesso un po' grandi linee detto tu con la nostra scuola perché c'è un progetto in ballo di poter insomma rendere sempre più fruibile come è stato detto nel servizio o come avete già fatto anche con foglia le nostre località sia per poter sciare per poter portare tutti su di sci ma anche per accedere ai rifugi ristoranti delle piste e ai bagni anche soprattutto e quindi questo ci siamo messi in gioco siamo andati con la nostra scuola abbiamo addirittura al progetto e abbiamo provato abbiamo provato anche noi io avevo già provato con un amico che è un olipionico è un palo olimpico ho già provato questo 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 attrezzo questa è con due sci che è più semplice quello monosì è ancora più dura e io ho anche rovinato monosì è veramente difficile però penso che quando tu prendi un po' di mano inizia ad andare e forse andrea ce lo può testimoniare perché lui ha iniziato anche lui ha imparato questo sì questo monosì ed è veramente una cosa un progetto bellissimo che abbiamo subito con la nostra scuola ho deciso di sostenere e di portare avanti perché è importante che le piste diventino usufruibili per tutti i tipi di persona hai dovuto rimparare a sciare di christian beh rimparare a sciare è una parola rosa sono sceso poi dopo fortunatamente avevo chi mi faceva assistenza perché se no forse avrei rotto anche quello di buono sci ecco e allora qui invece lascio ad andrea raccontarci perché andrea prima del suo incidente era un grande sciatore e dopo il suo incidente ha voluto ricominciare a sciare quindi com'è stato il tuo ritorno sugli sci? ma il mio ritorno sugli sci è stato un anno dopo l'incidente quindi prima lo sci della barca a vela anzi io amo dire che sono più sciatore che velista nonostante abbia attraversato l'oceano tre volte abbia fatto 60.000 miglia in barca è stato con al passo Clini con Helmut Wolf un amico che purtroppo ci ha lasciato un ragazzo paraplegico che aveva fatto diverse paralimpiadi e aveva creato questa scuola era il 2001 e quindi proprio dimesso dall'ospedale da poco insieme a un altro ragazzo dimesso da altrettanto poco siamo partiti con l'auto che mi avevano consegnato al pomeriggio non sapevo neanche bene se andavano o no i comandi e siamo andati al passo Clini senza poter scendere dall'auto perché eravamo tutti stipati tra monosci carrozzine e quant'altro è stato un inizio avventuroso la didattica al tempo era una didattica molto alla Rambo perché non c'era un maniglione per accompagnare i principianti quindi tu venivi lasciato venivi un po' trattenuto io ricordo che dopo il primo giorno non riuscivo a spostarmi autonomamente quasi dalla sedia a rotelli a letto avevo un male pazzesco ai muscoli e devo dire che se non fosse stata per la grandissima passione che ho per andare a sciare no forse avrei abbandonato abbandonato molto prima tante tante volte per cui poi abbiamo come associazione lo spirito di stella quando abbiamo incontrato corrado sul sente e questa didattica zero cadute è stata è stata una grande scoperta non tanto per me che ormai avevo già imparato a sciare sulla mia pelle diciamo ma per dare la possibilità a tante persone di avvicinarsi a questo sport fantastico di poterlo fare direi in qualsiasi condizione perché veramente persone con una mobilità molto molto ridotta che addirittura non muovono le mani in quel caso accompagnati possono scendere provare emozioni meravigliose e godersi le nostre piste anzi io dico per un principiante in piedi provate il monosci perché almeno andate subito veloci perché avete un maestro che vi accompagna e poi quando una persona disabile può e nelle condizioni fisiche di poterlo fare diventa autonomo quindi diventa autonomo al punto che io sono perfettamente autonomo sul mio monosci ma dove non sono autonomo nel contesto sociale se questo contesto non è organizzato infatti andrea ti chiedo di dirci di che cosa ha bisogno un disabile quando va a sciare da solo perché ha imparato ad andare da solo ma probabilmente ha bisogno di qualcos'altro faccio un esempio molto semplice io ho una casa sul civetta ma serva di cadore e però mia moglie che non scia è costretta ad accompagnarmi a portarmi parcheggiare l'auto perché non c'è un posto per disabili alzare il monosci a portarlo vicino alla seggiovia a spingermi e quindi io dopo sono autonomo ma tutta la fase da il raggiungimento dell'impianto a portare il monosci a muovermi all'interno del comprensorio e poi a una necessità devo andare in bagno e quindi devo tornare alla stazione di partenza quindi folgaria è stato innovativo perché perché io folgaria veramente non ho mai chiesto a nessuno non ho mai avvertito corrado che sarei andato a sciare e quindi io arrivo con la mia macchina esattamente come avete visto nel servizio cambia totalmente la mia autonomia la mia autonomia cambia mi permette di sciare da solo e fino il problema rimaneva quello della possibilità invece di entrare in una in una baita problema che ci siamo posti ad un certo punto con corrado e ci siamo accorti che c'erano 12 bait sull'altopiano di folgaria 10 erano completamente prive di barriere architettoniche però il bagno era stato utilizzato un bagno con i maniglioni un bagno accessibile erano stato usato come un magazzino perché le persone i gestori giustamente mi permetto di dire non vedevano nessuna persona con un'esigenza del genere non ne capivano neppure il senso di un bagno per disabili ma cosa mancava cosa mancava mancava la colla una carrozzina quindi un oggetto molto economico una carrozzina semplice che permettesse alla bisogna quando ce ne fosse stata la necessità a una persona che arrivava col suo monosci di scendere dal monosci salire sulla carrozzina usare la baita divertirsi non costringere tutti i suoi amici a tornare al punto di partenza a tornare all'automobile dove c'era la carrozzina e quindi vivere una giornata in montagna in maniera assolutamente uguale a tutti gli altri e l'incontro con corrado permettimi di aggiungere è stato molto molto importante perché fino al 2011 noi come spirito di stella proponevamo insieme a un'altra realtà dei corsi erano questi corsi però sporadici cioè o meglio li facevamo una volta all'anno belli duravano tre giorni ma quando questo gruppo di persone che portava attrezzature portava competenze quant'altro se ne andava sul territorio non rimaneva niente scie di passione invece è stata la possibilità di permettere a folgaria a una persona di essere uno sciatore indipendentemente dal fatto che ci veda che cammini che ci senta che capisca che stia benissimo che abbia tanti problemi la capacità che quindi è una capacità non è solo mettere a posto le baite ma è una capacità che va molto oltre il frutto della grande competenza di corrado nell'organizzare questa scuola è la capacità di essere attenta alle esigenze di ognuno e questo ha fatto sì che oggi a folgaria si possa sciare tutto là tutto il periodo invernale quindi corrado andrea dice scie di passione non mi ha messo solo sulle sci sugli sci non mi ha solo riportato a sciare ma mi ha dato la possibilità di di tornare a sciare da solo ogni qualvolta io lo volessi in una località che era stata a quel punto adeguata e pensata per me qual è l'approccio che avete voi di scie di passione quando vi affacciate ad una località scistica come sarà quindi il progetto che ci ha descritto cristian cioè il progetto di cortina noi abbiamo praticamente sviluppato su folgaria un progetto pilota quindi folgaria era una località che per le sue caratteristiche soprattutto il tipo di impianti era particolarmente avvetto ad avere l'accoglienza per le persone con disabilità perché ha tutte seggiovie quindi ci sono due ski lift piccolini non ci sono delle cabinovie quindi la seggiovia di per sé è l'impianto di salita per eccellenza più comodo per poter salire con un monosci o un due sci ecco teniamo presente che quando si parla di disabilità non c'è solamente la disabilità motoria ma ci sono anche le relazionali cognitive e ci sono poi le disabilità sensoriali quindi non vedenti però mentre queste due ultime categorie che vi ho detto non hanno particolari problemi perché sono sempre soggetti accompagnati e non hanno problemi di deambulazione più delle volte o comunque con l'accompagnamento riescono ad accedere in tutti i luoghi la disabilità motoria per sciare avete visto ha bisogno di queste di questo tipo di attrezzatura quindi noi abbiamo fatto questo test questo progetto pilota ci siamo resi conto che con delle semplici attenzioni era possibile rendere la località totalmente accessibile e quindi noi l'abbiamo sperimentata abbiamo visto che funziona perché al 2011 ormai quest'anno faremo la decima stagione noi facciamo circa il 20 per cento del lavoro della scuola sci con persone disabili quindi che cosa significa che noi offriamo un servizio che è paritetico le persone normodottate da quando apre la stagione a quando si chiude la stagione e questo era il colmare la lacuna che molte località direttamente anche oggi hanno perché ci sono delle bellissime realtà di volontari che vanno a fare delle attività però sono delle attività spot invece la località deve essere accessibile per tutto il periodo diremo 365 giorni all'anno in realtà noi parliamo di 120 giorni che la stagione invernale ma in realtà quando tu attrezzi la località per l'inverno in realtà la attrezzi anche per l'estate perché oggi per esempio in montagna si può andare tranquillamente anche con le hand bike assistite sappiamo che oggi c'è il boom delle mountain bike assistite quindi tu puoi arrivare in quota facendo poca fatica e vedendo cose che mai avresti visto se non avessi avuto questo tipo di mezzo bene ci sono delle aziende che realizzano delle hand bike quindi le biciclette praticamente che si possono utilizzare con l'utilizzo delle braccia anche queste assistite con le ruote da fuoristrada e quindi la cosa che noi facciamo è andare sulla località dove ci chiamano oppure dove riteniamo che sia interessante farlo nella realtà di cortina e quindi con Gedo ci siamo diciamo abbiamo condiviso la realtà della disabilità perché lui si è offerto per un bellissimo momento di memorabilia ci ha regalato uno scarpone questo scarpone però anziché spedircelo ce l'ha portato fisicamente e ha fatto un po da mattatore in una serata a trieste eravamo a porto piccolo e lì abbiamo avuto modo di fargli provare vedere il catamarano quindi credo che anche lui si sia reso conto di quanto possiamo essere fortunati noi che non ne abbiamo bisogno ma di quanto possiamo utilizzare determinate strutture attrezzature quando invece dovremmo avere questa necessità quindi è un mondo che si può avvicinare non è un mondo fatto di malati fondamentalmente anche fatto di persone che hanno magari subito delle malattie oppure hanno avuto dei traumi particolari e Christian sa perché nella sua carriera diciamo il pizzico di genio nel fare la spaccata è anche un po' il pizzico di folia perché a 130 all'ora una spaccata così o sei lui oppure probabilmente non lo fai però lui è appassionato di moto eccetera insomma di bombardare le pirate penso nella sua vita parecchie e quindi anche lui ha passato dei suoi momenti abbastanza difficili quindi il destino non sai mai che cosa ti aspetta meglio fare queste cose quando si è in buona salute e farlo per le persone che magari invece a queste realtà ci sono passate perciò abbiamo immaginato innanzitutto cortina 2021 quindi questo momento meraviglioso in cui l'Italia ha viste giudicati i mondiali va bene saranno mondiali a porte chiuse probabilmente non lo sappiamo che cosa succederà però noi ci abbiamo messo l'impegno l'abbiamo fatto in tempi non sospetti abbiamo detto come facciamo nella località chi è che possiamo coinvolgere abbiamo coinvolto il mover con mover la società degli impianti poi si è andati a fare un sopralluogo dei rifugi abbiamo praticamente speso 0 0 centesimi non abbiamo speso niente perché dei rifugi di cortina la maggior parte sono accessibili per motivi che diceva prima Andrea però che cosa succede che se tu non li doti di una carrozzina questi rifugi il gestore non ha evidentemente la sensibilità più sensibilità nella cucina più sensibilità nel fare l'accoglienza non è la sua un'attività prettamente sociale è una social è un'attività imprenditoriale da ristoratore abbiamo detto beh visto che gli impianti sono già accessibili perché abbiamo girato a cortina in lungo in largo e Andrea spesso a sciare anche a cortina abbiamo piazzato anche Gedo e Deborah su monosci hanno provato che cosa significa salire in seggiovia quindi è tutto possibile con questa piccola attenzione quindi andando a identificare facendo questo censimento dei rifugi abbiamo visto dove poter mettere queste carrozzine poi con un po' di buona volontà con l'aiuto di alcuni amici partner sponsor supporter noi abbiamo già ordinato le carrozzine che se tutto va bene il 17 dicembre il Cemagedo consegneremo ai gestori dei rifugi quindi loro si troveranno questo attrezzo che è semplice che però se giustamente reclamizzato permetterà e qui nella giornata che abbiamo fatto per quel giorno con con Gedo con Deborah con Andrea anche con te Francesco avevamo insieme con noi Renè oltre ad Andrea noi siamo andati dentro il rifugio fuori pioveva e loro invece sono dovuti rimanere così fuori intanto perché il rifugio non aveva la carottina in quella giornata particolare quindi quello che noi facciamo è proprio fare una sorta di sopralluogo e vedere come semplicemente una località che è già attrezzata per accogliere migliaia e migliaia di persone con un po' di attenzione può cogliere anche questo tipo di utente questo consumatore questo cliente questo sciatore che ha delle esigenze un po' diverse poi il resto lo fanno i maestri di sci e lo fanno anche i gestori degli impianti. Infatti Corrado è molto interessante pensare a questo tipo di sviluppo di adeguamento come comunque generare un'offerta a una clientela perché a volte si pensa al doversi adeguare per norma di legge perché bisogna farlo no perché a pensarci l'imprenditore forse non ci penserebbe da solo è costretto dalla norma in realtà questo è un mercato cioè è un vero e proprio target come direbbero quelli del marketing al quale rivolgere un'offerta commerciale e Folgaria in questo ne ha beneficiato? Ma sì assolutamente sì perché gli alberghi si sono attrezzati e hanno cominciato ad accogliere anche convegni di persone con disabilità perché ci sono ritrovi medici ci sono convegni che si fanno momenti di studio si fanno esperimentazioni ecco la particolarità che noi abbiamo fatto su a Folgaria è quello di dotarci come scuola si di dotarci delle attrezzature perché cosa talmente tanto un attrezzo che non lo puoi comprare solamente per vedere se ti piacerà sciare allora l'unione tra la didattica che come ha detto Andrea la nostra si chiama zero cadute l'abbiamo trasferita anche come concetto anche alla scuola mover di Gedo perché zero cadute noi abbiamo preso questa eccellenza delle delle frecce tricolori io tanti anni fa sono diventato amico del loro mental trainer delle frecce che Leonardo Milani e mi spiegò appunto la teoria del zero errori cioè loro non potevano sbagliare a me è piaciuto questo zero errori ho detto perché dobbiamo far cadere il nostro il nostro utente il nostro amico il nostro allievo cliente disabile le prime volte se continuo a essere per terra e mi sono rifatto l'esperienza di Andrea Passoclini che mi ha detto dopo una giornata ero talmente per terra che la sera ero praticamente in crisi muscolare non riuscivo neanche spostarmi dalla carostina al letto se io posso evitare di fargli fare il Marines almeno per i primi 100 chilometri poi pian pianino lascio le mani lascio che lui vada per conto suo la sensazione è bellissima perché lui è convinto che io lo tenga in realtà lui ha acquisito le abilità io finché scende poi non faccio altro che battere le mani dico bravo in quel momento dice ma con che cosa stai battendo le mani se non mi stai tenendo o mi stai tenendo lì capisce che ha raggiunto questa sua prima autonomia e a quel punto può anche decidere possiamo anche insegnargli un po a cadere perché nello sci ovviamente si parla di fisica piano inclinato le cadute fanno parte del gioco però una cosa è cadere e imparare a cadere una cosa è cadere perché non riesci a rimanere sul tuo attrezzo. Corrado so che ci hai portato un po di immagini del progetto di Folgaria e provo a condividerle magari ce le racconti tu qual è l'approccio di sci e di passione quando avvicina per la prima volta una località? Ma allora innanzitutto sensibilizzare all'attenzione attenzione perché ci sono poche cose importanti ad esempio quella che vedete in questa immagine è una delle realtà di Folgaria come diceva Andrea ci sono nove parcheggi liberi nella zona di accessibilità al piano sciabile e sono riservati per persone con disabilità è ovvio che questi parcheggi qui vedete in una giornata in cui il piazzale è pulito questi parcheggi devono essere tenuti puliti quindi il nostro approccio qual è? Che non è che aspettiamo che venga l'ANAS o la provincia con le ruspe a fare la pulizia perché è bellissimo quando nevica di notte alla mattina devi evidentemente preoccuparti dei tuoi allievi, dei tuoi clienti e li devi pulire quindi i nostri maestri di sci a turno prendono il badile e spalano e la cosa però che è importante lo vedete qui questo è uno studio che abbiamo fatto per Madonna di Campiglio qui siamo a passo campo Carlo Magno e dove abbiamo ipotizzato con questo nostro sopralluogo la zona dove poteva andare il parcheggio accessibile dove c'è la zona di accesso e la casettina dove vedete lì il segnino dove c'è la zona di accoglienza poi se vai su un'altra slide si vede in maniera chiara che proprio questo è un rifugio molto famoso lo chalet Fiat qui se il livello neve significa tanto si arriva direttamente dal piano sciabile fino all'ingresso e se no è prevista una lampa di lato basta mettere la segnalazione e tu arrivi con la tua carottina perché ovviamente lo chalet è giustato di carottina e tu puoi smontare dal tuo monosci e poi arrivarci. Tutti questi studi vengono fatti durante l'estate fondamentalmente quando andiamo a vedere come sono attrezzato qui per esempio già l'accesso ai servizi e alzze service è già pronto qui addirittura c'è già la lampa come diceva Andrea tante cose sono già fatte non è che serve investire migliaia e migliaia di euro perché molti gestori sono già sensibili a questo quando ci sono gradini di questo tipo sono assolutamente superabili non è che perché c'è un gradino di questo tipo la persona con la carottina sta fuori perché chi impara ad andare con la carottina impara a impennare gradinetti di questo tipo li supera no qui non ci sono non ci sono gradini vedete la vetrofania ad esempio di folgaria la vedete lì sulla porta dove c'è quella vetrofania folgaria per tutti vuol dire che il rifugio è accessibile un po' come un marchio so che voi incontrerete anche Roberto Vitali di Village for All e il suo marchio sta a identificare come questo folgaria per tutti noi abbiamo fatto a folgaria per noi che questo rifugio è accessibile quindi la persona che arriva in carottina sa che trova il bagno sa che non ha gradini sa che può circolare tranquillamente e può consumare come un qualsiasi utente la carottina è lì pronta ad aspettarlo perché la sua carottina è stata lasciata in macchina da dove lui è partito quindi questi questi aspetti poi ci sono anche vedete qui dei rifugi ad esempio qui sempre a Cantiglio c'è l'ascensore addirittura interno anche a Cortina sono i montacarichi che vanno dal piano inferiore al piano superiore i bagni come vedete di un rifugio sono già totalmente accessibile questo rifugio Viviani quindi non manca niente la carottina può entrare ci può passare senza nessun tipo di problema noi verifichiamo ovviamente che questo in un altro in un altro rifugio non era accessibile cambiando la porta cambiando il senso di apertura della porta è stato possibile perché non è che lui non ci entra è che la porta gli dà fastidio quindi parlando proprio di Universal Design a volte cambiare il senso di apertura di una porta cambia la vita a una persona con disabilità e quindi questo è sicuramente utile quindi questi questi diciamo studi noi li facciamo a secco generalmente e poi li sfruttiamo li utilizziamo poi d'inverno e andiamo a testarli e provarli anche l'impianto deve adeguarsi Corrado c'è un problema anche di impiantistica oppure lì non c'è no anche l'accesso agli impianti c'era anche qualche foto se vuoi farla vedere anche lì è molto semplice perché notoriamente noi abbiamo i tornelli vedete questo questo è un tipico una zona di accesso a un impianto e vedete che sulla destra della fotografia ci sono i famosi tornelli i tornelli hanno delle dimensioni diciamo abbastanza limitate una persona in carottina come Andrea che è totalmente autonomo riesce a passarli tranquillamente però a volte noi abbiamo persone di principianti che magari non ce la fanno oppure quell'attrezzo che ha provato anche Cristian il dual ski è molto più ingombrante rispetto all'attrezzo che usa un René che è un atleta paralimpico piuttosto che Andrea che è un asciatore di alto livello allora basta solamente creare un passaggio alternativo come in questo caso no per predisporre l'accesso facilitato ma è semplicissimo perché qui vedete in fianco della 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 casetta della biglietteria si può mettere questo tipo di di passaggio poi lo vedi anche in altre fotografie che ci sono qui ci sono due passaggi laterali e basta solamente fare una sbarra che apre perché ovviamente l'accesso deve essere controllato quindi il maestro generalmente non fa altro che passare con lo ski pass sul tornello a fare il bip fare segnare il passaggio e la persona in carrozzina quel monosci passa di lato quindi sono gli accessi appunto ai vari campi scuola ma c'è anche una foto proprio invernale mi pare eccola qui ecco qui vedete come si risolve l'accesso a una seggiovia se il tornello è troppo stretto l'addetto all'impianto quando vede arrivare uno sciatore con il dual ski non fa altro che aprirglielo il maestro gli passa lo ski pass perché ovviamente lo sciatore con disabilità ha il suo ski pass come tutti poi ha delle agevolazioni può avere uno sconto del 10 20 30 40 per cento a seconda di quali sono gli accordi della località sciistica in questo caso della società degli impianti però è un utente come tutti gli altri quando vi specificavo che abbiamo portato un vantaggio al comprensorio di folgaria perché molte famiglie che non approcciavano la montagna hanno cominciato a approcciarla perché trovando una struttura che li accoglie quindi noi immaginiamo venendo a sci e affidandoci la persona e che poi venire a sciare con noi il familiare può andare a farsi una sciata oppure può imparare a portare il proprio familiare oppure può andarsi a fare una passeggiata una ciascolata o anche semplicemente biting in totale relax che male non fa certo quindi anche cristian anche cortina sta elevando questa attenzione e quindi da quello che ho capito dalla voce di corrado basta poco quindi credo che il tuo ruolo sia fondamentale per influenzare anche i tuoi concittadini tu credi che si possa fare a cortina ma sì chiaramente abbiamo fatto come ha detto prima un'ispezione hanno fatto loro anche noi abbiamo fatto un giro per vedere un po' tutte quelle che sono le bike accessibili anche gli impianti gran parte degli impianti e delle bike sono accessibili e quindi con la richiesta poi dopo è stata anche un'idea che era nata proprio quando è andato giù a porto piccolo con andrea ha detto perché io voglio andare lui mi ha spiegato tutta la sua avventura quello che era successo quello che è stato raccontato un po' all'inizio mi piacerebbe entrare anche tanto veramente nel mondo dello sci perché cortina è un potenziale però anche poter portare o io che possa venire a sciare liberamente sarebbe troppo bello perché ci sono tante località come come folgaria che sono sono attrezzate oppure anche all'estero forse noi siamo un po' andrea magari tu me lo puoi confermare all'estero sono un po' più avanti con queste con questo tipo di infrastrutture no per dare la possibilità a tutti di poter andare sulle piste usare usare comodamente i fugi impianti mentre noi siamo un po' sempre un po' arriviamo un po' un po' dopo e questa è un'idea è un progetto che io ritengo fantastico la nostra scuola l'ha sostenuto e quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme per cercare di sensibilizzare tutti a far sì che ci sia possibilità per sciare per tutti quanti cristian grazie per questo appoggio per questa passione che che renderà cortina sempre come lo è stato in passato come lo è oggi sempre anche apripista e probabilmente darà dimostrazione in questi grandi eventi cortina 2021 e milano cortina 2026 di essere pronta per e all'altezza per degli eventi di questa importanza poi tra l'altro se non sbaglio dovrà ospitare anche le paralimpiadi subito dopo le olimpiadi quindi c'è lo sciatore disabile c'è l'accompagnatore ci sarà anche del pubblico nel 2026 siamo convinti che ci saranno ci sarà il pubblico e ce ne sarà tanto sarà anche da lavorare probabilmente con gli imprenditori cortinesi per adeguare le strutture alberghiere quindi probabilmente ci sarà anche un lavoro di architettura per adeguare l'infrastruttura della città esatto hai detto bene proprio e questi sono anche due treni il mondiale e poi dopo le olimpiadi e paralimpiadi che sono arrivati a noi così un fulmine a cesserino e questo io penso e mi spero che la popolazione l'abbia capito che è un'occasione per sviluppare e incrementare il potenziale della nostra località che è veramente un posto fantastico tutti quanti non so anche tu si lo conosci tutti quanti noi Corrado Andrea lo conosciamo io ancora di più molto bene è un luogo fantastico però se tu puoi dare più servizi a colui che viene per vivere un'esperienza a cortina che sia una vacanza che sia una sciata che sia una settimana in albergo a fare relax per qualsiasi tipo di persona è ottimo e quindi un'olimpiade e un mondiale fa sì che la gente sia attivi e spenda anche perché perché probabilmente inutile nasconderlo uno dei driver di questo business sostenibile è riuscire a creare dei progetti come quelli che creano Andrea crea Corrado e quindi stai creando anche tu su cortina di business sostenibile è un circolo virtuoso che nel momento in cui anche l'impresa gli imprenditori si attivano probabilmente si innesca un meccanismo che fa crescere questo questa attenzione fa crescere l'universal design perché è alimentato da un ritorno come dicevamo prima di un'offerta rivolta a una clientela credo che Andrea abbia molte esperienze di questo tipo di progetti nati insieme a delle aziende sbaglio Andrea sì sì tu sai come la penso io amo parlare di business perché credo che il business trasformi le cose finché pensiamo che lo universal design sia un qualcosa da fare perché è giusto noi stiamo sbagliando approccio l'abbiamo visto con autogrill autogrill con villoresi d'este ha detto io voglio fare un progetto dove servo meglio la mia clientela questa è la mia mission quindi fatturo di più e solo quando portiamo questi concetti che veramente imprenditori alzano un po le antenne e danno luogo al cambiamento vedremo con Roberto Vitali che l'80 per cento di 100 milioni di turisti disabili non viaggia in Europa perché non ha risposte adeguate alle proprie domande quindi se una località diventa accessibile diventa attrattiva pensiamo ad esempio per le persone anziane cosa vuol dire sapere che io posso andare in montagna e trovare una situazione facile quando abbiamo fatto il monitoraggio 26 baite tra tofane cristallo e faloria 18 hanno il bagno per disabili vuol dire che 18 hanno speso tanti soldi probabilmente 5 6 7 8 mila euro a baita per fare quella cosa lì se manca però l'informazione se manca d'inverno la carrozzina che costa 150 euro quella cosa lì non serve più a niente quindi noi dobbiamo guardare il progetto nella sua interezza le paralimpiadi sono un'opportunità immensa per ripensare una città che diventa possibile per una persona in serie rotelle ma più facile per un anziano e chiediamoci chi va in vacanza 12 mesi all'anno non sono dei ragazzi da vent'anni ecco c'è un passaggio che mi piacerebbe così sottolineare e che riguarda un po la coscienza la coscienza sociale e immagino nell'universo design week e mi auguro c'erano degli studenti di architettura e la cultura che noi dobbiamo sviluppare non è quello del devo fare non è che devo creare delle situazioni accessibili dovrebbe essere voglio creare delle situazioni accessibili perché allora vuol dire che sei entrato proprio in un ragionamento sociale che è molto più aperto molto più open e il terzo verbo è posso e questi sono gli strumenti questa è la cultura dell'universal design noi tutto sommato con i progetti dello spirito di stella assieme alle scie di passione assieme a mover assieme anche a tante altre realtà con cui noi entriamo in contatto che cosa facciamo dimostriamo che è possibile farlo quindi il famoso devo dovrebbe sparire fondamentalmente però abbiamo visto che già le generazioni noi millennium piuttosto che le generazioni z k y tutti quelli che devono arrivare sono ormai delle delle generazioni che sono molto sensibili a questo discorso certi tabù che c'erano un tempo ormai sono caduti il fatto del voglio è una grande motivazione però servono appunto questi strumenti e non pensiamo che servano chissà quali tipi di infrastrutture basta solamente secondo me la parola chiave proprio l'attenzione se tu sei attento a queste cose ti accorgi di quanto può essere semplice o quanto può essere complicato in questo caso la semplicità è una maggiore attenzione grazie corrado io andrei verso la chiusura purtroppo perché il tempo sta scadendo ma lo farei con un video che ci avete portato un video che è stato girato proprio in quell'occasione del sopralluogo che avete fatto a cortina e quindi io lascerei lascerei la parola a questo video proprio potete vedere le immagini della sciata insieme e quando si parla di un disabile che scia io devo dire sono rimasto veramente impressionato e anche messo in difficoltà nel lo sciare accanto a chi va giù molto forte e di chi si poi si capisce da questo video che adesso stiamo per far partire di quanto ci sia bisogno di dare spazio a questa passione anche in chi torna a sciare dopo un incidente o dopo un infortunio quindi lasciamo un'altra passione anche in eccoci quindi grazie nel chiudere io ho una domanda di rito che sto facendo a tutti i nostri ospiti della Universal Design Week e partirei da Corrado poi nell'ordine Andrea e lascerei chiudere Cristian la domanda che facciamo a tutti è cos'è per voi Universal Design in una sola parola Corrado attenzione Andrea io condivisione progresso wow wow no parliamo di wow in un'altra occasione però è Wilson Waves qui sono le rotelle sulle onde qui abbiamo Wilson Snow rotelle sulla neve io io vi ringrazio per questo questo momento veramente importante vi ringrazio per il progetto che state portando avanti per Cortina e lascerei la chiusura a Cristian e visto che ci sono molte persone che ci stanno osservando in questo momento sia in diretta e altre ci guarderanno poi nel video registrato lascerei a te un invito da rivolgere a chi appunto ci sta guardando per cosa possiamo fare noi come possiamo comportarci per rendere questo mondo più Universal beh io adesso stavo pensando mentre chiacchieravamo proprio prima adesso insomma sono ancora operativo attivo pieno di forze di energia però visto che si è toccato non solo il tema della disabilità per coloro che vanno sulla carrozzina ma anche degli anziani quando diventi vecchio io abito al primo piano metti in caso che io ma anche adesso non solo dovessi rompermi la gamba dovessi andare in giro per tre mesi che mi è capitato mio vicino di casa sono appena diventato genitore papà e sotto sotto la casa della della mia ragazza a Bressanone c'è un'altra coppia che hanno avuto un bambino lui si è avuto un brutto incidente e ancora da sei mesi sulla carrozzella lui all'entrata sulla strada io posso solo pensare cosa cosa dovrebbe succedere a me se mi succedesse una cosa del genere per poter io devo cambiare stravolgere la mia casa perché devo iniziare o a mettere delle scale per salire sul coso se no devo spaccare i muri mettere un ascensore quindi questo se si pensa prima o se si adeguano le strutture in funzione anche di questo è un salto in avanti enorme Cristian grazie mille chiudiamo così non aggiungiamo altro io vi ringrazio per la vostra disponibilità grazie mille Cristian Ghedina grazie Andrea Stella grazie Corrado Sussente e grazie a tutti voi che ci avete seguito vi auguro un buon proseguimento e seguiteci su universaldesignweek.it grazie ciao 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 via comprendo ciao�� ciao Francesco